le ultimissime su Venezia Inter le parole di Antonio Conte e degli aggiornamenti molto interessanti di calciomercato facciamo un bel punto della situazione amiche amici interisti ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui velocemente nel format che forse più apprezzate sul nostro canale riassumiamo le principali notizie del momento e quindi ci proiettiamo poi anche alla sfida di questa sera che seguiremo ovviamente in diretta tutti insieme sui nostri canali e quindi innanzitutto vi ricordo se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al nostro canale ovviamente eh vi basta un click attivate le notifiche in questo modo non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti neanche uno dei nostri video neanche una delle nostre dirette ogni giorno su Twitch alle quattordici alle diciannove e trenta su YouTube e ovviamente le live di tutte le partite tutte le partite a partire ovviamente da Venezia Inter appunto la sfida della di giornata la sfida che eh archiviato il capitolo Champions League archiviata la qualificazione aritmetica di ottavia di Champions League oggi c'è una grande chance in campionato innanzitutto bisogna continuare questo percorso allungare la striscia di vittoria e confermarci sulla scia delle prestazioni che stiamo facendo in questo momento ma soprattutto bisogna lanciare un messaggio a quelle là davanti alle capoliste eh il Napoli che affronterà la Lazio una sfida molto insidiosa con tante assenze il Milan invece eh affronterà il Sassuolo sfida anche qui che nasconde qualche insidia l'Inter intanto però può mettere pressione battendo il Venezia si presenterebbe a meno uno eh dalla vetta della classifica quindi capite bene che questa è una vittoria veramente molto importante contro una squadra che andremo ad affrontare che è veramente molto insidiosa probabilmente una delle più grandi sorprese di questo più di stagione un allenatore Zanetti preparatissimo una squadra che ha presentato tante novità tanti giocatori pescati in giro eh per l'Europa e per il mondo che stanno facendo però fin da subito eh meglio di quanto si potesse pensare all'inizio stagione quindi guai a sottovalutare il Venezia eh ricordo innanzitutto dove vedere questa sfida sarà trasmessa sia da Sky quindi anche Nauti V e eh Sky Go ma anche da Dazon ovviamente che ha l'esclusiva eh di tutte le partite questa è in co-esclusiva partì dalle venti e quarantacinque noi di Passione Inter saremo live dalle diciannove e trenta con le formazioni ufficiali e tutto l'avvicinamento alla gara eh su YouTube quindi a partire dalle diciannove e trenta mentre su Twitch a partire dalle venti e quarantacinque poi dalle venti e quarantacinque potrete scegliere se seguire la partita su YouTube o su Twitch vedete voi la piattaforma che preferite a proposito di probabili informazioni gli ultimi aggiornamenti vi condivido eh la grafica che arriva eh da Gazzetta dello Sport di oggi il Venezia con Romero in porta Mazzocchi Caldara Ceccaroni e Aps Ampadu Vacca e Busio a centrocampo a Ramo Harry e Okere che con questo attacco a cui prestare assolutamente attenzione dall'altra parte però l'Inter eh che deve fare a meno anche di Arturo Vidal influenzato e mal di gola oltre all'assenza di Kolarov per problemi muscolari si aggiungono agli stop di Alexis Sanchez e Stefan De Frey che non hanno recuperato entrambi mettono nel mirino lo Spezia a metà settimana per De Frey più probabilmente la Roma per quanto riguarda quindi la formazione dell'Inter ci sarà un turnover ma contenuto secondo le ultime indiscrizioni con Andanovic in porta screener Ranocchi e bastoni scelte abbastanza obbligate lì dietro Di Marco sulla sinistra potrebbe far rifiatare Ivan Perisic a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries Dumfries che potrebbe giocare contro lo Spezia invece mercoledì e quindi ritrovare finalmente spazio a centrocampo confermati ovviamente Ciaranoglu e Brozovic diciamo che l'assenza di Vidal complica un po' il piano di turnover perché probabilmente Vidal avrebbe giocato a questo punto quindi niente Vidal eh è probabile che che Barella possa rifiatare lasciando il posto a Gaiardini che si candida alla titolarità in attacco invece Lautaro Martini e Segeco anche se bisogna dire che c'è un Correa eh pronto a ad entrare quantomeno se non sarà dal primo minuto sarà a partita in corso e poi probabilmente ci si alternerà con la sfida con lo Spezia dove probabilmente a quel punto eh giocherà Correa quindi ci sarà una staffetta tra gli attaccanti che si scambieranno i ruoli e le maie in queste due partite e anche all'interno di questa partita questa quindi eh l'ultimo aggiornamento con le probabili formazioni eh di questa giornata attenzione a questo Venezia anche perché stavamo ragionando un pochettino anche su quali possono essere le nostre armi come andare a far male a questo Venezia è chiaro che l'Inter ha un tasso tecnico superiore una forza superiore però eh attenzione perché quest'Inter ha sbloccato molte partite ha trovato anche il predominio sull'avversario grazie alle palle alte ai colpi di testa i gol da calcio in angolo eccetera eh questa volta sarà più difficile del solito perché il Venezia sulle palle alte è quasi insuperabile visto che in questo più di stagione è una squadra che ha subito meno gol dalle palle alte addirittura un solo gol eh subito di testa e quindi dovremo cercare anche delle vie alternative se questa strada risulterà bloccata e quindi attenzione a questa sfida che nasconde molte molte insidie forse anche un piccolo calo di tensione dopo la qualificazione eh in Champions che dobbiamo assolutamente evitare detto questo stamattina eh Sport Week ha pubblicato una intervista ad Antonio Conte ex allenatore dell'Inter oggi al Tottenham che sta facendo molto molto discutere quindi eh ve la condivido direttamente dal nostro sito www.passioneinter.com con gli estratti principali Conte dice spendaccione no do valore alle squadre mi dissero che c'erano tanti soldi e quindi andiamo a leggere gli estratti principali eh di questa intervista eh gli chiedono in Italia ora si dice che Conte farà spendere tantissimi soldi al Tottenham e lui dice mi viene da ridere io nella mia carriera ho sempre fatto guadagnare i club dove ho allenato non spendere ho lavorato con giovani da formare atleti svalutati o da ricostruire calciatori che non avevano vinto nulla fino a quel momento e tutti loro grazie al mio lavoro si sono rivalutati al rialzo in carriera ho chiesto un solo giocatore che è stato pagato tanto ovvero Lukaku e lo chiesi in base agli obiettivi che mi erano stati prefissati cioè spezzare l'egemonia della Juventus e far vincere di nuovo l'Inter i dirigenti vennero a casa mia quindi i dirigenti dell'Inter vennero a casa mia dicendomi che volevano riportare il club sul tetto del mondo sfruttando grandi disponibilità economiche perciò chiesi Romelu ritenendolo fondamentale per l'obiettivo dichiaratomi poi aggiunge guardiamo però anche a quanto è stato venduto quasi il doppio stesso discorso per Akhimi ma potrei citarle tanti esempi all'Inter la valorizzazione di Barella di Bastoni di Lautaro che quando sono arrivato io nemmeno giocava dove vado io costruisco sempre qualcosa e lascio un solco un'etica del lavoro una mentalità vincente non è presunzione sono fatti se chi è arrivato dopo di me ha sempre potuto vincere è solo grazie alle fondamenta che ho costruito io queste sono eh le parole di mister Antonio Conti sinceramente io ragazzi devo ammettere che sono abbastanza d'accordo eh con lui perché quello che dice è sotto gli occhi di tutti eh diciamo che quest'ultimo passaggio mi fa un po' storcere il naso cioè eh se chi è arrivato dopo di me ha sempre potuto vincere è solo grazie alle fondamenta che ho costruito io ecco questo mi sembra un passettino un po' in là ecco un po' eccessivo però è vero che a Conte è stato richiesto in generale anche nelle precedenti avventure un determinato obiettivo lui da professionista quale è fa delle richieste specifiche per poter raggiungere quell'obiettivo e poi eh ti ci porta con qualche errore ovviamente con qualche passaggio a vuoto so già che qualcuno nei commenti mi scriverà eh però in Champions ha fatto delle figuracce però va anche detto che inizialmente il progetto prevedeva di arrivare allo scudetto in tre anni è stato fatto in due e con il piano investimenti che è molto cambiato nel frattempo ed è anche vero che comunque ha lasciato delle fondamenta molto solide così come aveva fatto con la nazionale come aveva fatto con la Juventus ereditata da Allegri come aveva fatto dal Chelsea quindi eh su questo penso che chi oggi rinnega il lavoro fatto di Antonio da Antonio Conte all'Inter anche all'Inter sinceramente non mi trova d'accordo non mi trovo assolutamente d'accordo e e quindi io condivido questo pensiero del del mister Antonio Conte e i dati appunto dei giocatori acquistati e valorizzati ulteriormente è sotto gli occhi di tutti da questo punto di vista a proposito di questo andiamo a chiudere con un aggiornamento di calcio mercato riguardo in particolare Julian Alvarez attaccante del River Plate è stato protagonista di un'annata veramente straordinaria a ventuno anni è concretamente nel mirino di tanti top club tra questi però c'è anche l'Inter quindi eh l'aggiornamento importante in queste ore eh confermato da varie fonti stanno appunto dicendo che eh Dario Baccin braccio destro diciamo così di Piero Ausilio direttore sportivo dell'Inter sta per volare in Argentina e in Argentina è previsto innanzitutto ovviamente eh si approfitterà per osservare da vicino diversi calciatori tra questi calciatori c'è lo stesso eh Julian Alvarez con il quale però in particolare sarebbe previsto un incontro con l'entourage del calciatore o comunque è prevedibile un incontro con l'entourage del calciatore eh notizie che arrivano dai quotidiani di oggi e anche dalla stampa argentina potrebbe essere quindi una mossa per giocare d'anticipo su tanti altri club che si stanno muovendo eh su questo attaccante molto molto interessante è sicuramente ad oggi uno dei migliori ehm degli attaccanti più promettenti in circolazione ovviamente la concorrenza è molta però l'Inter c'è e vedremo come andrà quale sarà l'esito eh di questo viaggio nel frattempo stando in tema calciomercato è in arrivo il rinnovo di di Marco praticamente concluso si aspetta tra una decina di giorni il vertice nuovo incontro da dentro o fuori con Marcello Brozovic e poi si lavorerà anche su Ivan Perisic queste sono le notizie principali del momento ora ci andiamo a preparare eh per la partita col Venezia prima di salutarvi vi ricordo che abbiamo fatto un lavorone con passione inter punto club slash black friday abbiamo creato una eh pagina dove trovate tutte le migliori offerte per fare regali e per farvi regali a tema inter trovate scontatissimo l'abbonamento per entrare a far parte del club di passione inter mi raccomando è il momento giusto per anzi tra l'altro vi ringrazio perché in tanti avete già approfittato di questa maxi offerta per entrare nel club di passione inter e quindi prima che esaurisca questa questa offerta vi invito ad affrettarvi ad entrare anche voi a far parte di questo club con tanti interisti da tutto il mondo trovate poi il merchandising di passione inter che ci avete richiesto in tanti con uno sconto speciale del venticinque per cento quindi mi raccomando approfittate anche qui sconto con questo codice coupon che abbiamo trovato per voi anche sul sito nike con tutte le maglie ufficiali originalissime anche quelle dell'anno scorso scontate al quaranta per cento e poi anche i maglioni natalizi con tutto il merchandising natalizio dell'inter tutto ovviamente ufficiale ed originalissimo lo trovate su www.passione inter punto club slash black friday il link ve lo lascio anche in descrizione se mi avete seguito fino a questo punto io vi chiedo di farvelo sapere nei commenti questa volta mettete le emoji del pallone visto che siamo in match day giorno della partita ci rivediamo in diretta ogni giorno quindi iscrivetevi al canale e vi aspetto poi ovviamente nel club di passione inter grazie a tutti i